fisca il direttore di gara inizia l'its licia calcio d'angolo abbattuto ora sotterra la palla rimane in area di rigore doppia occasione sfumata per il sfera battuta fuori dall'area il tiro la parata di maroncelli si riparte quindi che non mancano 40 secondi alla fine della partita 1 a 0 risultato tra leeds e lì c'è lo foco con l'esterno recupera la palla il licea che può attaccare e chiudere il match dentro un'altra parte il tap in vincente che chiude definitivamente la partita ed è 2 a 0 d'andrea e arriva il triplice fischio vince 2 a 0 il licea sull'its